molto bonita per l'insalata signore, apri la mano per il vapore signore, questa è buonissima, questa è molto buona per l'insalata, se vuoi fare anche calabasina per fare la pasta insalata, la pizza, questa è molto buona per l'insalata, se vuoi fare anche le muccello, questa per fare le muccello, si prende solo il giallo per fare le muccello, questa è molto bonita e facile se vuoi usare sala costa vulco me puttubble, questo è spicello, cos'è ragazzo Grazie a tutti. Grazie a tutti.